Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla Fibili per intervento di ripristino, frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare nel tratto al chilometro 79 direzione Livorno. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo Ammozzano a causa di una frana. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!